Aaaaaah Aaaaaah Cosa vi dissi io del Torino? Che il Torino veniva a Napoli E faceva la partita Perché il Torino, non guardate La classifica signori E' una grande squadra, no è una grande squadra Sa giocare Sa giocare, il Torino sa giocare Forse quello che non ha capito Gattuso oggi, guardate un po' Gli ultimi 20 minuti di Llorente Quando è entrato Llorente, Llorente Ha fatto quello che non ha fatto Petagna in 60 minuti, caro Gattuso Fate le tue domande Fate le tue domande Fate le tue domande Eh, fate le tue domande, diglielo Fate le tue domande, perché non è normale Che un giocatore, che ha 40 anni Llorente, quanti anni c'ha Llorente? 40 anni? Quanti anni c'ha Llorente? 40 anni, 50 anni Quanti ne ha? Mangia la pappa In testa a uno come Petagna Cioè, vaiù Di cosa stiamo parlando? Tu oggi l'hai pareggiata A culo, grazie a una prudezza di Zielischi E una prudezza di Insigne Perché se Insigne non buttava quella palla dentro Tu, oggi, è nella terza sconfitta di fila Non alla prima, ma alla terza sconfitta di fila Va bene? Ti sei ripreso quel punto che ti hanno levato? Che hai ritornato a quel punto? Gli hanno dato uno in più? Basta però, vaiù Tu stasera dovevi dimostrare che il Napoli è forte E non l'hai dimostrato stasera, caro Gattuso Il Napoli è lento Perché non ha giocato tutta la partita come gli ultimi 5 minuti? Perché? Perché questa cosa? Il Napoli non ha linee Non ha linee di passaggio Il Napoli Prima di fare un passaggio Fa 5 7 tocchi E che grave questa cosa Se tu vuoi imporre un gioco veloce Deve fare 2 tocchi Massimo 2 tocchi Non 7 tocchi Cioè, svegliamoci Perché se continuiamo così Tu il posto Champions lo perdi E lascia stare Perché oggi l'Udinese ha pareggiato Scusatemi L'Atalanta oggi ha pareggiato E la Lazio ha perso in estremis Perdeva 2-0 Poi ha recuperato Ma il Milan L'ha ribaltata un'altra volta Senza titolari Il Milan Senza titolari Il Milan E' senza titolari Da 5 partite Il Milan E' senza titolari Da 5 partite Il Milan Tu perché ti manca Mertens Stai facendo? Oh, ci manca Mertens Ma che Cosa cavolo stai dicendo? Va bene che ti mancano Ma tu Mancano le basi Su questo Napoli Ragazzi Mancano le basi Su questo Napoli Manca tutto A questo Napoli Non hai gioco Non hai grinta Non hai niente Mi hai tolto Mi hai tolto Petagna per mettere Il Llorente 4-2-4 E' tutto in attacco Stai perdendo Più di quello Che vuoi fare 4-2-4 Basta Tutti in attacco Vai Cioè io non ho parole Togli il bagaglio Che è lento Perché è lento Il bagaglio Non riuscivi a fare Una ripartenza Perché era lento Va bene? Mettevi Elmas Zielischi A centrocampo Centrocampo a 2 Insigne Llorente Petagna Lozano Cross in mezzo A Raffica Cross in mezzo A Raffica A Llorente Ci sono arrivati 5-6 cross Ma perché Li abbiamo messi Quei 5-6 cross Non tutti giusti Tutti sbagliati Però ce li hai buttati Quei cross in mezzo E se c'avevi due torri Come Petagna E Llorente Qualcosa succedeva All'in mezzo No No Poi hai tolto un'altra punta Per mettere un'altra punta Che senso ha? Che senso ha questa cosa? Non ha senso A parte che Sei infortunato pure Dem Ragazzi Mancano le basi A questo Napoli Manca tutto A questo Napoli Manca tutto A questo Napoli Cioè Non è normale Questa cosa Non è normale Diggialo pure tu Diego Non è normale È normale? No Non è normale Che sì Ragazzi Manca tutto Mancano le basi Come hai detto Le basi Le basi del calcio Non ci sono Diggialo pure tu Le basi Basi È basi Bravo Ragazzi Cerchiamo di Si era parlato ora Delle dimissioni di Cattuso Non lo so Non lo so Non mi interessa Però questo Napoli Così Non va bene Il primo tempo Sembrava il Napoli Di Donadoni Siamo ritornati indietro Dieci anni Dieci Dieci anni Siamo ritornati indietro Diego Che hai fatto C'è sulla Playstation Vabbè Iscriviti al canale Ci sono i buoni Amazon Prendili Ci facciamo un favore A vicenda Conta la maglia Ora c'è la sosta C'è la sosta Gattuso Gattuso C'è la sosta Motiva i giocatori Perché stiamo inguaiati Sempre forza Napoli Diego Cosa devi dire? Forza Forza Napoli Iscriviti al canale Grazie a tutti